Ciao bambini, ciao! Tranquilli, sono io, la maestra d'italiano. Shhh! Sto giocando al supereroe. Per questo mi ho messo la maschera così nessuno sa chi sono io. Un supereroe deve essere misterioso. E poi ho un distintivo di supereroe e ho anche, guardate, ho anche il mantello. Quello che mi manca ancora è la tuta. Devo avere una tuta di supereroina. Ma per esempio, io qua ho il mio amico, guardate, io farò di questo bambino un supereroe. Di che cosa ho bisogno? Ascolta, ascolta bene. Tu, per essere un supereroe, prima cosa. Chan, 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 chan. Ah! Un mantello. Il mantello si mette così per coprire le spalle del supereroe. Il mantello. Il mantello. Il mantello del supereroe. Benissimo. E ora manca la seconda cosa. Tutto, tutto, tutto dobbiamo avere. Il mantello. E ora la maschera. La maschera. La maschera del supereroe. Secondo elemento. Eco fatto. Ah, poverino. Non vedo niente. Ora sì. Maschera. Mantello. Che cosa manca? Ricordate qual è la terza cosa importante di un supereroe? Avere un distintivo. Il distintivo del supereroe. Allora, abbiamo il nuovo supereroe. Con voi, il super bambino. Il super bambino. Allora, se invece di un bambino è una bambina, sarà una supereroeina. Eccola qua. La nostra supereroeina è una bambina con una maschera, con un mantello e con il distintivo di eroina. E' una eroina perché è una bambina. Se tu sei un bambino, sei un supereroe. E se sei una bambina, sei una supereroina. Però, attenti, perché c'è un altro supereroe. Il gatto mascherato! Andiamo a vedere le avventure del gatto mascherato. Che ne dite? Andiamo. Dove sei, gatto? Dove sei? Dove sei? Ciao. Dove sei? Io. No, sei. Questa, allora. IB? Tu... Now,